Ciao a tutti cociotti e benvenuti in questo nuovissimo video di GTA Prima di iniziare un super annuncio brevissimo che questo sabato pomeriggio, quindi il 2 dicembre Saremo finalmente a Genova per la prima volta alla fiera Smack & Play Che si trova alla fiera di Genova per la previsione nel padiglione blu Quindi vi aspettiamo, ci saranno anche le nostre maglie, bella Andiamo subito a giocare che oggi raga, super figata Sarò dove ho bisogno di essere Tra me e la gente di Gotham Volevo inquadrarmi figo con una citazione bella di Batman Ma evidentemente non sono capace Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di GTA Online Se oggi siamo nel mio ufficio è perché voglio impersonare BRUCE WAYNE O SURRIIIII Basta, SURRI e basta, come spera Comunque, no, oggi andremo a comprare, signore e signori, la vigilante Lo avete detto in tantissimi, vedete che sono in tantissimi Ed è proprio per questo che oggi ho aggiunto dei fondi al mio account Proprio per fare questa cosa qui Costa davvero tantissimo raga Non avrei mai potuto farlo senza aggiungere fondi Anche perché purtroppo non gioco più a GTA Come facevo una volta, che a volte mi mettevo a nerdare e nerdare Ora purtroppo non ho più tempo Però raga, sono troppo belle queste macchine Quindi, la vigilante in teoria è la macchina di Batman Cioè non è la macchina di Batman Però è ispirata alla macchina di Batman Quindi andiamo su Warstock Andiamo qui in basso ed eccola qui Parte di contrabbandieri Ha due posti Come possiamo vedere da qua sopra E costa la bellezza di 3.750.000 dollari Io non vedo l'ora di prenderla Usarla E di andare a modificarla Perché mi avete detto che si possono aggiungere razzi Cioè raga Figata Pazzesca Acquista Seleziona proprietà Del Perl rights Il centro operativo mobile Ragazzi mi avete detto tutti di non usarlo più Per metterci dentro Le macchine Nelle moto Niente Perché Perché è bugato Mi avete detto che il centro operativo mobile È capitato ad alcune persone della community italiana Di perdere i propri veicoli Cioè perderli per sempre E io non voglio perdere i miei veicoli per sempre Anche perché Visto che faccio video su YouTube Compro veicoli che costano un mucchio di soldi E non mi piacerebbe perderli ragazzi Neanche un pochetto Neanche un pochetto Quindi tra poco dovremo ottenere La nostra bellissima macchina Tutto quanto Ma sono da solo in sessione Sono pure da solo in sessione A che culo Così posso provarla per bene Tra l'altro Ho in programma altri acquisti fighissimi ragazzi Uuuuh Conferno che la tua nuova vigilante È disponibile presso il tuo garage Di Delperro Heights 4 Che è esattamente questa qui Signore e signori Entriamo nel garage E andiamo a vedere Questa figata di macchina Sono gasatissimo Perché è troppo bella Invece magari fa che gare Mi è arrivata una roba mignon E mi hanno trollato E Oh mio Dio Ma ragazzi È una macchina di Batman È una macchina di Batman Che figata E la TAR non assomiglia Alla macchina di Batman Però le linee sono quelle Cioè Batman non c'ha la macchina Con la roba davanti O forse in un film vecchio Si sa Eh raga Cioè Ditemi se non sembra un po' Pluto Da davanti Comunque Guarda che figata No no non uscire Perché sei uscito Prendi la macchina prima Madonna Facciamo come fanno tipo Quelli che vanno a fare I video musicali A Los Angeles No I rapper Le cose Prendiamo la macchina Portiamola in spiaggia E mostriamo a tutti Com'è che si fa A flexare duro Come si sa In sta macchina Tra l'altro Ah ma c'è la portiera standard Verso l'alto Oddio Io volo raga Come la Tesla Modello X Andiamo 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 Oh mio dio Che ha pure iniziato a piovere Signore e signori Perché quando tu sei Batman Ma che figata è Ma che figata è Oh mio dio C'ha pure C'ha pure il nos Con la e si attiva Oh la madonna Frenda 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 Oh mio dio Voglio andare Allora non voglio romperla però Mi dispiacierebbe graffiarla subito Ecco se distruggo questa Chissà quanti soldi mi chiede Se per l'opresso mi chiede 20k Qua anche mi chiederà 20k almeno Ecco l'ho graffiata Porca vacca Io voglio andare in spiaggia Come faccio ad andare in spiaggia Solevati subito Ma posso sparare? Vabbè posso sparare normalmente Allora guarda qua C'è un bel ingresso Peccato che piove però Io volevo fare la roba figa in spiaggia Qui mostravo tutti i dettagli Guarda Fari all'Oxeon Con quella turbina gigante Per raffreddare il motore Da 7.922 cavalli Figa Guarda il modi della sospensione là dietro Il nos Cioè che figata ragazzi Ok eccoci da LA Custom Ed è qui Che si fa tutto Non è vero Per modificare questo veicolo Corre un centro privativo mobile Con Raga allora io vi dico Vaffanculo Cioè ormai ho preso i soldi Andiamo al bunker E compriamo quest'officina Perché non è possibile Che compro tutte ste robe Non posso modificarle Guarda che bello Allora siamo in autostrada Io direi Fa culo a tutti Usiamo anche il nos Figa Tra l'altro si ricarica in mezzo secondo Cioè spacchi E spacchi i culi Questa roba Guarda che slalom Che fa Buuuu Figa Il figa raga è automatico Quando c'è il macchinone Il papi Il figa è automatico Cioè Però mi viene il dubbio Non è che come per l'oppressor Devo sbloccare le modifiche Vabbè ora vedremo Anche se costa un milione Però Cioè puoi fare troppa roba Puoi modificare troppi veicoli Conviene per forza Perché va che abbiamo comprato le armi Che costavano cosa Mezzo milione Non compriamo l'officina Ma per favore Andiamo a spedere un po' di soldi qui Salve Salve posso entrare Qua dentro con questa super macchina Oh la mamma mia Guarda guarda che animazione Ora che entra la batmobile Entra 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 Oh che figata È bellissima È tamarrissima poi eh Cioè non è solo bella È pure tamarra Guarda non entra manco nel parcheggio Quanto è lunga sta roba Comunque Tra l'altro Devo riempire le scorte Così finisce la ricerca Mi sblocca qualcosa di nuovo Buongiorno amico mio Allora Non era slot 1 Era slot 2 E facevi Officina ed armeria Io nel 3 Cos'è che ho? Deposito veicolo personale Non mi serve Officina e armeria Boom Un milione Porca va con colpo al cuore Boom Modifica Vabbè ma è giusto così Devo portare i contenuti su youtube Altrimenti che senso ha Non posso fare missioni su missioni E basta Ciao Posso notificare la macchina Che se non è dentro Oppure no La macchina deve essere dentro Mi pare giusto Però che figata È molto più largo di prima Cioè prima quando c'era solo Il deposito veicolo Non era così largo Speriamo che ce lo porti qua vicino Che quello è enorme Non sanno mai dove metterlo E ci mettiamo dentro la batmobile Dov'è il mio centro periativo mobile Bello Dov'è? Dov'è? Eccolo qua Qua vicino Vai sul letto del rimorchio Per entrarvi Non ti preoccupare Che io ci devo mettere dentro la mia macchina Se la perdo mi incazzo Però mi avete fatto unire lanza questa roba Premi E per modificare questo veicolo Premi Eh premuto Guarda che sale E togli Ok Armature Allora queste non le ho ancora sbloccate Devo sbloccare con il rango Ed è per questo che nei commenti Giustamente Perché dico giustamente Mi avete detto Sui devi fare più missioni Quelli che ti hanno tanta esperienza Perché devi salire tanto di rango Per il momento per 12.000 Io mi aumento l'armatura Easy Freni Io Raga Tanto io Troppo I soldi li ho presi per questo Regolazione motore Accelerazione al massimo Con questo Questa che cosa fanno Rango 60 Rango 90 Beh io compro questa Luci Fari Luci all'oxeno Ma si Che fai Non li compri Kit neon Ehm Mettiamo frontali e laterali Ma come dico io Però Aspetta Assicurazione Senatore C'erano già Verniciatura No Lasciamola così Vendi No Non voglio vendere il veicolo Zio Sospensioni Posso aumentarle Per fortuna E il turbo Posso prendere il turbo Ah non posso Vedere il rango 50 Armi Missili 180.000 dollari Sì E mettiamo il fumo nero Ragazzi Dai pneumatici Così proprio Fighissimo Finestrini Ovviamente Oscurati A limusine No non posso Mettevoli un po' Oscurati E basta Io direi che Esci dal centro operativo mobile Signore e signori Questa è la nostra nuova macchina Con i finestrini oscurati Al lato Che fa tipo troppo Tamarro Il neon nero Io magari direi La butto lì Ma leviamo la musica country E ho i missili ora Come funziona? C'ho i missili davanti Ma non so come funzionano Missili non guidati Guarda il fatto che sto spaccando tutto E scusa ma quando finisco i razzi Che succede? Ah no Ma allora ce li ho ancora Ah si ricarichano dopo un po' Credibile Ma ho preso fuoco? No raga Mi si è rutta la macchina Di già? Guarda che figata Ragazzi mi si liquidati Ma muori Anche dall'alto Orca vacca sono morto Ovviamente per concludere le bellezza Volevo fare una bella foto Vestito da Batman Vicino alla Batmobile Però c'è un problema Tutto questo Che ho cercato anche su internet Se c'erano dei tutorial Su come fare Bene a vestirsi da Batman Però Ti vesti solo di nero Con le tute Le cose C'è un vloghettino Che potresti mettere Purtroppo non Nulla di troppo figo Eccolo lì Da in fondo Boom Guarda Guarda che cattivo È troppo forte sta roba Guarda Cioè appena vedo La macchina pulizia Si incazza Però le macchine civili No Perché Batman Ci tiene Ai civili Guarda Andarli lontano Muori E proprio volevo capire Quanti razzi ho Piccato Attento zio Muori 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 Io sto sparando Raga sto sparando Completamente A caso Quanti razzi ho Me ne manca uno In teoria Vediamo Se si ricaricano Da soli Oppure no E invece si Si ricaricano Da soli Raga Sono infiniti Porca vacca Cioè è OP Questa roba Posso andare avanti A spaccare macchine Come se non ci fosse un domani Muori Mi sono fatto esplodere Da solo Ma va bene così Ma va bene così Che ci si diverte Ragazzi Spara qualcuno Per ammazzarlo Però Stai calmo Attira la polizia Porca vacca Rischiato Lui 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 Porca vacca È difficile Quando non locca la gente Ecco lui Sì No 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 Muori Ok Cosa Non è arrivata la polizia Ah infatti Eccolo lì che arriva Locca locca 3 2 1 Boom È così che si fa Ma guarda qui Già arrivano ma io Ma li ha ammazzo tutti Dov'era L'elicotteri 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 che fanno ridere Quando li ammazzo Vai vai No No Vai boom Elicottero morto Ma c'è un posto di blocco Qui Ma non fatemi Fatemi il favore Bufu Esplodete tutti Però anche tanto Io tra poco Mi ammazzerò da solo Già lo so Cioè Ne sono consapevole E' quello il problema Ho finito i razzi Non locca più niente No zio Locca qualcuno Ho finito i razzi Ho finito i razzi Ma come Non erano in tipo infiniti Orca vacca Scappa No 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 Oddio Pensavo fossero infiniti Pensavo Raga il colmo C'è il suo scappare E volo sopra le macchine Addirittura Ma levati di qua Per favore Su per la montagna E la madonna Ma scuola Da qui posso tipo Veicoli Ehm Non posso tipo Contromisure No 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 Vai vai Corri 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 Oddio Che volo faccio Ora esplodo Non sono esploso Ok ok No zio zio Torna dritto Torna dritto Veloce 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 Ma quanti elicotteri ci sono Porca vacca Dai 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 Che vado Ste quattro stelle Non saranno cinque stelle Ma almeno quattro Eeeh Vaso Certo Sta macchina La macchina è ridotta Peggio di Non so cosa Però la macchina Di batman Cioè va bene così Boom Vai che vola Incredibile E si è tipo un oppressor Con il nose così Incredibile Ragazzi Mi ricordo che per questo video È tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi voglio lasciare un mi piace Se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Sono messo tutti E senza facebook Ovunque vi vogliate E io vi saluto Ciao Toru toru tutti